La Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale contro la normativa che impone alle regioni, indipendentemente dal pareggio di bilancio, la spesa per il personale in sanità al netto dei rinnovi contrattuali inferiore a quella del 2004, almeno dell'1,4% entro il 2020. Ad annunciarlo il Presidente della Giunta, rivendicando i risultati raggiunti dalla sanità toscana negli ultimi anni, i conti in pari e una regione che si accolla direttamente oltre 100 milioni all'anno di ratio per investimenti fatti anni fa su nuovi ospedali e tecnologie. La regione, inoltre, ha sottolineato l'assessore, ha già accantonato 54 milioni per rinnovi contrattuali del personale. Il Presidente ha anche parlato di spesa farmaceutica e di possibili correzioni in alcuni settori, richiamando i medici all'appropriatezza nelle scelte.